Sono Sauro Innocenti dell'azienda Jolly Caffè di Firenze, il nostro amministratore delegato qui alle mie spalle, il dottor Gerlando Maggiordomo, è conosciuto nel settore del caffè come tra i migliori impenditori di caffè, un'azienda che nasce circa 64-65 anni fa, che ha avuto sempre l'obiettivo di creare un prodotto, una miscela per l'espresso, elegante, equilibrata, di ottima qualità e fondamentalmente costante nel tempo. Questa prerogativa adesso è sempre prefissa l'azienda. Il punto forza dell'azienda è sempre stato quella di portare un prodotto qualitativamente di alta qualità e fondamentalmente dà importanza a delle caratteristiche tali da poter certificare poi questo espresso. L'importanza dell'espresso italiano certificato secondo il disciplinario dell'INEI che è appunto l'istituto nazionale che certifica le varie miscele. L'innovazione sta proprio nel fatto che siamo stati i primi a credere che potesse esistere una miscela idonea che è certificata poi appunto per l'espresso italiano certificato. a presto! Anche a presto! Anche a presto! Grazie a tutti